Benvenuti, cari follower, in questo nuovo video in cui vi informeremo sulle zone interessate da pioggia e temporali domani, venerdì 23 agosto 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, voglio ringraziarvi tutti per il vostro continuo supporto di questo canale e prometto che ti forniremo contenuti utili nel prossimo periodo. Quindi per domani, venerdì, ci sarà un aumento delle temperature in Italia. Questo aumento delle temperature e con l'incontro di diverse masse d'aria negli strati superiori dell'atmosfera c'è una grande possibilità che si formino temporali molto forti, in diverse zone d'Italia e questo nel periodo serale. Pertanto domani, venerdì, è possibile una forte attività temporalesca in entrambi. Valle d'Aosta, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Umbria, Abruzzo, Campania, Sicilia. Le piogge saranno più intense sull'isola di Sicilia e saranno accompagnate da chicchi di grandine, quindi è necessaria molta prudenza. Qualsiasi altra notizia importante, proveremo ad aggiornarvi più tardi.